Quello che state per ascoltare è un discorso che potrebbe non farvi molto piacere sentire, è un discorso molto crudo, me ne rendo conto, ma sinceramente penso che sia doveroso da fare. Non vi voglio rovinare la giornata, quindi sappiate che il video precedente a questo, anche direttamente il successivo, saranno sicuramente cose un po' più leggere, paradossalmente più leggere. Per tutti gli altri possiamo andare avanti. Voglio mettere le mani avanti però, ragazzi, perché ci tengo a ringraziare chiunque mi abbia fatto gli auguri, io abbia tenuto comunque a non farmi passare una giornata orrenda ieri, perché oggi è il 24 marzo, ieri è stato il 23, il mio compleanno. Purtroppo non sono in grado di far capire che apprezzo queste cose, però questo qui è il mio modo per farlo capire. Avevo pensato anche di rispondere singolarmente a ogni singola cosa, però stava diventando una cosa un po' robotica e meccanica, e quindi mi sono detto, aspetta, un attimo, facciamo altro. Questo video esiste principalmente perché con il passare degli anni le persone hanno cominciato a preoccuparsi ogni volta che faccio il compleanno. Mi piacerebbe dire che le preoccupazioni sono tutte quante infondate, però forse non è così e quindi siamo oggi qui a parlare. Ripeto, oggi è il 24, però non so quando vedrete questo video, perché innanzitutto devo decidere se pubblicarlo oppure no. Se l'ho pubblicato, ok, però comunque non voglio riempire il canale di video troppo filler, quindi voglio far passare un po' di tempo, i video fatti un po' meglio, un po' più in tema col canale, prima di parlare di questa cosa qui. Sicuramente vi avrò pubblicato tantissima altra roba prima di aver fatto uscire questo video, quindi in sostanza togliamoci questo dente. Le persone si sono preoccupate perché ogni volta che faccio il compleanno, a differenza di quello che fanno tutte le altre persone normali, io sparisco nel nulla. E vi assicuro che ormai sono dieci anni che è così, cioè io non festeggio mai, in generale per altri motivi, in generale per altre cose, l'ultima cosa avrò festeggiato così sarebbe il diciottesimo, però per carità di Dio preferisco dimenticare quella cosa, lasciamo perdere. Quella giornata per me è stata un supplizio, penso di non avere nemmeno più foto di quella roba e preferisco che sia così. La maggior parte dei motivi per i quali durante il giorno, nel mio compleanno, mi rinchiudo in casa ed evito con il più possibile qualsiasi contatto umano è tutta una serie di motivi che sinceramente preferisco tenere privati perché sono fatti miei, tranne per una cosa che penso sia immaginabile ormai, perché è una cosa che si è aggiunta ultimamente insieme al resto e purtroppo ragazzi questa cosa si sa, perché si è vista di successo a più o meno in pubblico. Da quest'anno infatti questa cosa inizia a farmi un po' più paura, a farmi venire un po' più pensieri, però si cerca sempre di rimanere il più lucido possibile. Sto parlando di quella cosa che dopo tutto questo tempo ormai non cito più, perché la gente se ne approfitta, la gente si mette a fare teorie strane, cose strane, quando in realtà ci sarebbe soltanto di rimanere in silenzio e farsi tanti di quei fatti propri e sì, puoi anche farti i fatti tuoi se vedi una persona che ne parla in pubblico perché l'educazione ti dice che se non hai niente di carino da dire puoi tranquillamente chiudere la fogna. O più che altro non di carino, di utile, perché se quello che dici non serve a nessuno, ma te lo puoi risparmiare. Cioè ragazzi si parla di gente che mi mette in bocca cose che non ho mai detto, ormai succede quotidianamente, ok? Oppure gente che direttamente si improvvisa medico e per esempio nel video in cui parlavo di questa storia, ormai è un video di aprile dell'anno scorso, mamma mia che cosa non ho dovuto leggere, infatti questo penso che sarà il terzo video del canale, in cui, no forse addirittura il secondo, in cui i commenti non sono disponibili. La gente si improvvisa sapientina cercando il nome di una malattia su Google dicendo ah perché? Io capisco che certa gente abbia bisogno di introdurre così all'interno del proprio corpo una dose di serotonina in più, però esistono anche i sistemi migliori, la serotonina. Se non vado errato è l'ormone del piacere, quindi per carità, se te la devi procurare in questo modo è veramente una vita miserabile, mi dispiace per te. Ieri ho fatto 24 anni e quindi ho iniziato ad entrare nel range di persone più colpite dalla sindrome di Brugada, che è la malattia che ho scoperto di avere tre anni fa. E per chi non lo sapesse, è una brutta malattia invisibile, chiamata anche sindrome da morte improvvisa, sostanzialmente il cuore ti si stronca randomicamente, senza che sia per forza provocata uno sforzo eccessivo, che comunque provocerebbe a tutti. È una malattia invisibile, quindi da fuori non si vede, non ha sintomi effettivi, tranne forse qualcosina, che però, capito, è un po' indescrivibile, e io senza saperlo me la stavo portando appresso da quando sono nato, da vent'anni me la stavo portando appresso. Quindi, riassunta molto brevemente, solitamente chi ha questa sindrome non supera i 40 anni di età, proprio se gli va bene. Ora, ci sono casi di persone che non arrivano nemmeno ai 30 di anni che hanno questa sindrome, ci sono persone che vivono tranquillamente fino a 80-90 anni, quindi non è una cosa certa. Il punto però è che una volta che te la diagnosticano, esiste sì un defibrillatore che si potrebbe mettere, non si potrebbe mettere, il punto è che il dottore che a livello mondiale sta studiando questa cosa qui, a me mi ha già curato, mi ha già operato anni fa, quindi mi è stato sconsigliato da altri dottori, ovviamente poi il fatto è che ogni medico dice X, Y, Z e alla fine sono io che devo fare la media delle cose che dice la gente, quindi vabbè, non voglio nemmeno che qualcuno venga a dirmi guarda allora questa è la soluzione, se ci fosse la soluzione non me lo darebbe il tizio su Instagram, sapete quanta gente ragazzi ha iniziato a scrivermi di guru che mi dicono no perché devi sbloccare i cancelli delle cose, te li sblocco io a Cerfone i cancelli, di Regina Celi però, te la gente che ti crede ti fai pure pagare, quindi riassunto il fatto che sono stato già operato anche in maniera abbastanza pesante al cuore tempo fa, non tutte le persone sono uguali e non tutte le persone possono permettersi di fare a cuor leggero quel gioco di parole certi interventi e certe cose, poi mi potrebbe andare bene, sì però io sinceramente non mi farei, mi faremo questa cosa sapendo di aver già avuto delle cose in passato, io non ho mai bannato nessuno che faceva un tipo di discorso odioso del tipo ah perché io ho questa cura quest'altro perché sinceramente penso che sia tempo che posso impiegare meglio visto che comunque sia ho questa spada di Damocle addosso e ho capito che il mio tempo lo devo impiegare in maniera migliore possibile, infatti mi sento 30-40 volte in colpa di più rispetto a una persona normale se perdo un po' di tempo durante il giorno. Io semplicemente mi limito ad osservare molte volte come l'essere umano sia veramente un animale stupido in cerca di approvazione nei modi più stupidi. Premetto comunque che nonostante la mia tendenza ad isolarmi durante questo giorno ho la fortuna che non tutti hanno di essere circondato da degli amici che sono definibili tali anche molto più della stessa definizione che non mi hanno lasciato solo anche nonostante il fatto che io rispondessi male che tutto quanto e mi hanno strattonato a fare qualcosa. L'altro ieri sera mi hanno portato al cinema a vedere un film siamo pure divertiti ieri ho avuto casa che era un via vai di gente per carità va bene mi hanno fatto cucinare ho la fortuna di avere una grande schiera di amici che si assicurano tra le altre cose che questa qui non prende il sopravvento perché alcune volte è successo ed è veramente difficile fermarla. Questo però non vuol dire che dopo una bella giornata per carità passata con gli amici tutto quanto anzi mi sto assicurando di non passare mai una giornata senza vedere almeno qualche amico o qualche cosa ed effettivamente abitano qui molto facile perché ce li ho due passi insomma non vuol dire che non sia cosciente di tutta questa situazione oltre ad altre 300.000 che mi orbitano intorno sapere di essere una sorta di bomba orologeria e sapere anche di essere arrivato ormai a quell'età in cui questa bomba potrebbe avere più probabilità di scoppiare ti fa fare due conti soprattutto ad un'età così giovane di un giovane almeno dal punto di vista biologico giovane dal punto di vista del cervello ormai l'ho soprausato e mi è stato soprausato così tanto che penso di essere invecchiato prima di testa sto ovviamente facendo i miei controlli annuali ogni volta va tutto quanto bene però c'è anche da dire che i controlli per questa malattia vogliono dire tutto e niente perché non è che tu la possa controllare più di un tot specialmente è una malattia che puoi controllare soltanto effettivamente puoi visualizzarla in un elettrocardiogramma solo quando è la febbre alta ragazzi c'è poco da dire difficilmente con la febbre alta io mi muovo dal letto infatti è successo qualcosa come tre settimane fa di essermi preso l'influenza che stava girando penso che se la sono presi tutti ma ho avuto proprio un brutto crollo in quel momento febbre a 40 non respiravo praticamente più il cuore lasciamo perdere lì mi sono reso conto del fatto che l'unica cosa alla quale effettivamente devo stare attento è la febbre perché la febbre stava per accopparmi stavolta vabbè non ho fatto parole in pubblico perché mi sembra anche stupido da dire capito io faccio tante cose pericolose tutti i giorni a che cosa devo stare attento alla febbre vabbè comunque il fatto che vado a fare i controlli e un medico mi dice x vado un'altra parte e un altro medico mi dice y per carità è anche giusto avere più pareri più cose però non è manco giusto doversi mettere a fare la media tra tutte le stronzate che ti dice la gente per quanto siano vai a vedere tutte cose giuste però cose che magari si contraddicono tra di loro e io mi ritrovo in mezzo e dico vabbè l'unico che forse ne capisce qualcosa in questo caso sono io perché sono io a provare certe cose purtroppo specialmente nell'ultimo periodo ho iniziato a pensare a questa cosa sempre in maniera più ossessiva ma ovviamente fuori dalla mia testa non può saperlo nessuno ma anche semplicemente perché sono diventato tristemente molto bravo nel corso del tempo a non far capire a nessuno che cosa mi sta passando per la testa anche perché chiariamoci qualsiasi medico che mi ha visitato che comunque si è occupato del mio caso e di tutto quanto pensavo che mi impazzissi da un giorno all'altro perché saputa questa cosa anche tante altre cose che non sto qui a dire insomma si aspettava veramente di dovermi mettere sotto chissà che cosa invece penso che sia successa la cosa più inquietante di tutte sono lucido e ci ho pensato io a fare tutto cioè non dovrebbe essere così io dovrei essere secondo quello che doveva succedere una persona che impazzia completamente che cazzo diventava un santone di quelli che vanno in giro a fare ah ecco qua vi racconto la storia della mia mattina invece no e invece sto qua ragazzi a fare esattamente quello che facevo prima solo in maniera più sviluppata e niente non me lo spiego sinceramente non so come sia possibile contro ogni aspettativa nel corso di questi ultimi tre anni soprattutto ma in particolare nell'ultimo anno sono diventato una persona fredda da fare schifo veramente indecifrabile certe volte e sia me ne sono reso conto che mi è stato fatto notare però cioè mettetevi anche un attimo nei miei panni che cosa volete che faccia che mi metta a fregnare tutto il tempo o addirittura fare come madonna c'è gente che si mette a fare top 10 curiosità sulla mia malattia per carità di dio cioè ho ancora una dignità mi piace ancora andare in giro con la faccia sinceramente da quando ho scoperto di avere questa malattia l'unica cosa alla quale ho pensato è stato semplicemente oh magari può darsi che non ci arrivo a domani fammi fare del mio meglio in quello che è il mio campo perché può darsi che questa malattia mi colpisca domani sera come tra 30 anni come mai non lo so ma capito anche senza questa malattia può darsi anche che uno metti caso distrattamente si dimentica il gas acceso in casa e va a dormire quante volte ti senti di queste cose qui purtroppo sono cose che capitano le malattie come gli incidenti e queste cose e secondo me l'importante è semplicemente dare il 101% di quello che si può dare molti direbbero goditi la vita fai ma come fai a goderti la vita se non costruisci se non fai qualcosa cioè goderti la vita che cosa vuol dire secondo certa gente stare in panciolle su un albero godersi la natura cioè quello lo puoi fare dopo una volta che hai fatto il tuo dovere stacchi vai a fare questa cosa qui non puoi vivere una vita in panciolle cioè una vita sprecata a questo punto veramente ti fai mettere su un lettino d'ospedale con le flebo come tra l'altro un sacco di gente voleva che io stessi senza fare niente e invece guarda un po' posso soltanto dire che il sapere di avere questo timer all'interno del corpo ad un certo punto non comincia soltanto ad avere conseguenze sul corpo ma proprio sulla mente quindi uno dei tanti motivi per cui io non ho mai voglia di festeggiare compleanno o in generale un qualcosa che non mi abbia richiesto degli sforzi assurdi per arrivarci anche lì sinceramente non ho voglia di festeggiare proprio niente ma in particolare il compleanno è che penso che nel mio caso ci sia davvero poco da festeggiare cioè è una tacchetta in meno di ciò che mi resta per vivere e secondo quello che insomma ho iniziato a capire si tratta di una batteria che probabilmente è nata più scarica di quella di tanti altri e quindi una tacchetta mia che se ne va potrebbe voler dire dieci tacchette di una persona normale ragazzi ci sono altre decine di motivi per cui detesto il mio compleanno comunque motivi se posso dire anche più gravi di questo ma sinceramente penso di essere fortunato non solo per tutti gli amici che ho ma anche per il fatto che tante persone cioè io per esempio del mio compleanno a volte me ne dimentico proprio e quando non me ne dimentico c'è proprio una sensazione di schifo nel pensarci ma questo perché nel corso del tempo mi sono state fatte così tante cose questo giorno che ormai ricollego tutto così però d'altro canto ci sono tantissime persone e parliamo di migliaia di persone che mi seguono che se ne sono ricordate ben prima che facessi proprio ho fatto mezzo riferimento alla cosa e questo quindi da una parte sono fortunato come detto prima comunque dopo tutta questa situazione dopo anni che ho scoperto di avere questa cosa sono stranamente lucido penso di aver fatto tutte le mosse giuste da quando ho scoperto questa cosa tutto ciò che era il mio potere fare e probabilmente sarebbe stato più facile con uno psicologo probabilmente sì probabilmente no non lo so può pure essere però se questo paese non si decide a creare delle agevolazioni vere per chi ha bisogno di queste cose e continua a far costare una seduta di uno psicologo tantissimo ma anche per chi si trova in situazioni in cui cioè non è neanche colpa degli psicologi capito quelle sono persone che fanno il loro lavoro e studiano per farlo il problema è tutto il discorso del fatto che non esista un psicologo di base o perlomeno mi sembra aver sentito che esiste però capito sempre così sempre a pensare alle boiate e insomma la colpa di questo non è mia e io sicuramente non mi metto a levare del cibo dalla mia bocca perché questo paese è gestito da dei buffoni sanità pubblica di qua di là però quello che serve a me non per colpa mia costa come una casa raga uno si attrezza come può prendersela con il governo è stupido prendersela con il sistema è stupido e anche qui sarei potuto diventare uno che si mette nei circoletti a fare oh compagni dobbiamo combattere no io ho una vita effettiva da badare io ho sinceramente preferito invece di cercare un colpevole che sicuramente esiste per quanto riguarda la gestione di certe cose ho cercato di farmi girare quei due neuroni che mi rimangono e di gestire tutto al meglio che potevo e penso di averlo fatto se vivo in una casa da solo che tutto quanto si regge sulle mie gambe e mi alzo la mattina e non devo dire grazie a nessuno per il fatto che oggi lavoro faccio quello che faccio e domani mi avrò i frutti di questa cosa qui se non magari comunque le persone che lavorano con me insomma sono sicuro del fatto che forse forse le mosse che ho messo in atto per questa situazione e per tutto il resto non sono state le mosse sbagliate ammetto di essere riuscito soltanto un mese fa più o meno a far funzionare il funzionabile e a risolvere il risolvibile e ammetto anche ragazzi che il 99% delle persone che si incontrano durante la propria vita non ti rendono facile questa roba molto spesso per cattiveria infatti ho dovuto tagliare via tutto il tossicume della mia vita e non me ne pento assolutamente si parla anche di persone non ho nessun rimpianto penso tuttavia che questa malattia sia stata la botta finale per togliermi un po' di umanità almeno quella che mi è rimasta perché ragazzi purtroppo una malattia la puoi vedere in due modi o la vedi come la fine della tua vita o la vedi come un oh ci diamo una svegliata nel possibile poi se sono malattie che non ti consentono di fare questa cosa qui è brutto in quel caso nel mio caso si mi è andata molto male ma non così male come per esempio ad un malato oncologico e capito io mi sento pure in colpa nei confronti di qualcuno che magari non si può più muovere da un letto di ospedale da qualcuno che magari sta in stato vegetativo perché devo buttare la mia vita nonostante tutti gli scalini che uno deve fare quando c'è qualcuno messo peggio purtroppo questa mancanza di rispetto nei confronti di chi non ha la possibilità di fare certe scelte è molto frequente io potrei cioè nella mia tesi in questo momento ci saranno qualcosa come 30-40 esempi diversi di persone che scoprono di avere un qualcosa che magari è anche meno grave di quello che ho io e cominciano a mettere su un circo non cogliendo questa occasione nel giusto modo preferendo il passare da vittima con chiunque perché oddio per favore consola mia e passano sempre la persona successiva io non so che cosa farmi della compassione degli altri e mi irrita particolarmente anche chi cerca per forza capito sente ah questa cosa poverino vieni qua che ti accarezzo ma che ti accarezzo mi tocca mi rendo conto che sia un discorso un po' strano però dati alla mano sono migliorato da tutti i punti di vista possibili ma questo non me l'ha regalato il attento non fare troppo no me l'ha regalato il distruggermi tutti i giorni nonostante capito tutte le cose che mi vengono dette questo è il modo in cui tanti dottori non volevano che io prendessi questa malattia cioè secondo questi qua io dovevo rimanere una sorta di vegetale che si dai alla fine ti fai la passeggiatina fai questo quest'altro no questa vita se la volete vivere vivetela voi ma io non ci tengo cioè mi dicevano proprio niente sport niente stress niente lavoro troppo eh poi niente stress come se dipendesse da me lo stress però vabbè però capito niente sport niente lavoro niente cose ah sì e a sto punto guarda mi butto direttamente un po' che senso devo crepare sul letto d'ospedale proprio agonizzante così con la consapevolezza di aver buttato la mia vita e di non aver fatto niente bello schifo molte persone purtroppo quando si rendono conto di avere una malattia mi rendo conto che non sia neanche totalmente colpa loro anche se alla fine la responsabilità della somma delle cose è nostra ma molto spesso quando hai questo tipo di malattie o comunque di situazioni ti viene ficcata dalla gente una voce in testa per la quale tu sei quella malattia e quindi tutto quello che fai nella tua vita deve essere assolutamente in funzione di ma assolutamente no mi rendo conto di essere un pessimo esempio da seguire irresponsabile a schifo perché mi autodistruggo e mi spingo sempre troppo ma a me piace vivere così ed è una scelta mia come è che dice la gente quando non c'ha voglia di andare in palestra quando non c'ha voglia di fare una dieta o comunque di qualsiasi cosa di vivere decentemente chiariamoci my body my choice oh il mio my body my choice significa che letteralmente questa qui è la prima birra che ho aperto nel giro di quattro mesi perché da capodanno ho anche smesso di bere qualsiasi tipo di alcolico e l'ho usata per cucinare questa qui neanche l'ho assaggiata a due secondi ma perché l'ho usata per cucinare per tre quattro persone e anche di fumare qualsiasi prima fumavo ragazzi purtroppo prima di sapere tutta questa roba qui ma comunque non c'entra niente in generale ho tolto tutto e questo è il mio my body my choice capito perché se non avessi tolto queste cose qui in maniera consistente proprio sarebbe tramonto tutto quanto in medicina in ospedali e cose e lì capito sono cose che si pagano sia a livello di tempo di soldi di saluto di tutto quanto il my body my choice funziona anche quando insomma hai obiettivi un po' più seri del non depilarti o magari essere grasso essere magro si parla di obiettivi un po' più a lungo termine di cose che sicuramente nella vita ti ripagano non non mi depilo tutti quanti guardate chi se ne frega fai bene divertiti io sono molto orgoglioso di questa strada che sto battendo perché è una strada che non ha mai battuto nessuno è molto faticoso bisogna distruggersi la testa però sinceramente questa angoscia che provo anche per questo motivo è la mia benzina so che penso nessuno si aspettasse un discorso che cominciava dal perché non festeggio il compleanno a questa melma nera però cioè sostanzialmente è così ripeto non ne parlo mai ripeto anche che questo video avrà commenti disattivati perché voglio che il messaggio passi forte e chiaro che non ci sia gente che travisa almeno qui sotto tanto la gente travisa sempre però capito tutto questo evolversi è dovuto anche a situazioni che mi hanno distrutto nel corso degli anni ora molte persone fingono di avere un carattere come il mio per darsi un tono però sono facilmente sgamabili cioè se mi guardate in faccia potete capire tranquillamente quanto poco mi interessi che qualcuno ascolti questo discorso lo travisi o capisca fischi per fiaschi cioè la gente può fare esattamente quello che vuole a me non cambia niente perché questo disinteresse c'era soltanto nel momento in cui sei matematicamente certo al 100% di tutto quello che sta dicendo e che stai facendo l'opinione di qualcuno che non vive qui dentro non conta assolutamente nulla per queste situazioni se ho smesso di festeggiare tutto ciò che mi riguarda che non sia legato magari a un traguardo per il quale mi sono spaccato la schiena insomma i motivi sono anche questi non penso che sia qualcosa di sbagliato così come non penso che sia qualcosa di sbagliato se qualcuno si sente di festeggiare anche semplicemente il fatto che si sia svegliato la mattina io sono molto più contento di festeggiare compleanni e traguardi degli altri mi piace organizzare per gli altri ma mi mette abbastanza a disagio quando il festeggiato sono io ripeto per me il mio compleanno è soltanto una tacca in meno alla mia batteria che immagino che a questo punto sia molto più scarica di quello che penso poi può darsi anche che io mi sbagli può darsi anche che questa cosa mi abbia preso la testa più di quello che pensavo per me è stato molto meglio rispetto al compleanno la settimana che l'ha preceduto quindi dal lunedì al mercoledì faccio questo esempio è la prima volta che effettivamente riesco a finire tutto il lavoro della settimana fino a domenica lunedì ragazzi io ho avuto la settimana in questo momento che è il 24 io mi sto anticipando una cosa che probabilmente esce lunedì martedì però capito siamo a venerdì e comunque sto perdendo tempo oggi non sto facendo niente perché mattina poi dopo allenamento lavoro cose però capito io sono più contento di dire ok sono stato bravo del compleanno non me ne è fregato letteralmente nulla anche perché in passato ripeto mi è stato fatto odiare così tanto questo giorno che ormai niente è finito succede questo dopo l'ennesima carognata che le persone per puro divertimento ti fanno nonostante dovrebbero essere le persone che ti fanno amare questi giorni però che vi devo dire è andata così è andata così io sono fierissimo di quello che sono e se questo qui è stato il prezzo da pagare per arrivare a questo punto l'ho pagato va bene posso dire di essere stato abbastanza temprato per adesso nella vita per poter passare da situazioni del genere anche magari oltre sinceramente non so che cosa far imparare di positivo da questo video perché solitamente sono sempre abbastanza bravo a trovare una morale in certe cose però probabilmente questa cosa qui non ne ha che che volete che vi dica cioè proprio la cosa spicciola faticate per i vostri sogni vabbè penso che chi ha un minimo di intelligenza e sicuramente sono seguito da persone per la maggior parte intelligenti non abbia bisogno del reminder che ti ricorda che se vuoi dimostrare qualcosa a te stesso devi lavorare per quella cosa lì e ripeto penso non ci sia bisogno del reminder però fate voi so che questo discorso è diventato molto più ampio di quello che doveva essere e probabilmente è diventato un discorso inquietante molto più inquietante di quello che magari qualcuno si aspettava ma è anche il motivo per cui non mi apro mai a nessuno perché le persone quando vedono quello che ho in testa si spaventano avrò conosciuto forse 4-5 persone che non si sono spaventate con queste cose qui ragazzi le persone difficilmente capiscono uno come me senza rimanere un po' scottate quando si trovano davanti certe cose e sappiate ovviamente che quello che vi ho detto oggi è zero rispetto a tutto io sono dell'opinione che certe cose sia sempre meglio tenersele chiuse da qualche parte e fare quello che si può fare nel mio caso intrattenimento su un qualcosa di abbastanza macabro da permettermi di usare almeno una piccola parte di quello che c'è qua dentro vabbè siamo fitti di un discorso molto contorto e mi dispiace anche però succede spesso di un discorso che釋vano ma